Ma vedi perché io non devo fare l'operatrice? Fermati, fermati, fermati. Ma non ti reggi di resi, è naturale. Allora, hai visto che prima eri più scuro perché c'avevi quel pappardone in faccia? Hai visto che ti ho tolto la... Eh, guarda, adesso è perfetta, non devi manco... Adesso non devi fare neanche la gobba di tua nonna. Anzi, sta un po' facendo un'olimenti appoggiato. Come lo sbirro più... Mi puoi accendere per favore questo? Quel monitor di prima? Aspetta. Grazie. Grazie.